Scade domani il termine per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni regionali, tra quelle ufficiali Tiziana Russo con la lista Cento Passi con Claudio Fava e Michele Catanzaro col Partito Democratico. Intanto si acuisce lo scontro all'interno del Movimento 5 Stelle di Sciacca. Su Facebook due militanti della prima ora, Nino Vitale e Antonella Di Prima, dichiarano che le prossime regionali non voteranno per Matteo Mangiacavallo. Il prossimo carnevale vedrà la partecipazione delle scuole. È stato concordato ieri nel corso di una riunione tra l'amministrazione e dirigenti scolastici, prevista la presenza di cinque gruppi mascherati, composti da alunni di elementari e medie. Più di 3.000 visitatori in pochi mesi al Castello Luna funziona alla gestione della rete museale di Sciacca dopo l'acquisizione dello storico maniero del centro storico da parte della cooperativa Agora, che gestiva già il Castello Incantato. Il parroco di San Michele Don Pasqualino Barone ha insegnato il premio il più buono dell'anno per la sua attività con la mensa della solidarietà di Santa Caterina, premio consegnato all'Istituto Amato Vetrano durante la festa del Cuoco. A Santo Stefano di Quisquina l'amministrazione comunale investe sulla cultura a partire dai bambini per avvicinarli ai libri attraverso un coinvolgimento concreto presso la locale biblioteca comunale. Il progetto si intitola Che favola bimbi. Un cordiale saluto, ben trovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con la nostra informazione che oggi si apre con la politica. Scade domani il termine ultimo per la presentazione delle liste alle regionali del 5 novembre prossimo, ma da settimana ormai circolano indiscrezioni sui nomi dei candidati saccenzi. Ho cominciato a fare politica con Claudio Fava, per me normale candidarmi alle regionali con la sua lista. Lo ha detto oggi al nostro telegiornale Tiziana Russo, 24 anni dopo la sua prima candidatura al Consiglio Comunale di Sciacca, a fianco all'epoca di Ignazio Messina. Candidatura quella di Tiziana Russo che sarà presentata ufficialmente sabato pomeriggio 7 ottobre all'ex commento di San Francesco. Sentiamo Massimo D'Antoni. Sarà presentata sabato pomeriggio all'ex convento di San Francesco, alla presenza di Enrico Rossi, presidente della regione toscana, di Luca Pastorino, deputato nazionale, di Luca Casarini, segretario regionale di Sinistra Italiana, la candidatura all'ARS di Tiziana Russo, che dunque torna in campo correndo alle prossime elezioni regionali. Ha accettato la designazione e rappresenterà il territorio saccenzi nella lista 100 passi di Claudio Fava. Ho accettato perché il progetto di Claudio Fava è un progetto che mi coinvolge intanto personalmente. 24 anni fa ho comiziato a Sciacca, ho iniziato la mia avventura politica con Claudio Fava in Piazza Angelo Scandaliato. Dopo 24 anni il fatto che mi sia stato chiesto che trovo un progetto assolutamente importante in questo momento particolarmente difficile in cui si trova la politica siciliana. E allora io ho accettato di buon grado, credo di essere naturalmente nel posto in cui dovevo essere, con la coerenza giusta che deve accompagnare anche un certo modo di fare politica. Mi sono ritrovata nelle posizioni di questo progetto che porta avanti naturalmente concetti e bisogni delle persone normali ed è il senso della mia candidatura. Tiziana Russo preferisce grissare in ordine agli schieramenti scompaginati sia a livello locale sia a livello regionale. Così dunque risponde all'ipotesi di un possibile sostegno a Fava e magari anche alla sua persona da parte del gruppo Mandracchia Leonte Deliberto. Questo non è una somma di sigle, il nostro è un progetto unitario, è un progetto che ha proprio l'ambizione sì di raccogliere una larga parte di mondo ma che ha l'ambizione fondamentale proprio perché non deve essere un progetto di testimonianza di parlare alle emozioni di ognuno di noi. Per il resto in questi 30 giorni io penso di dover fare chiaramente l'appello ad ogni elettore di questa provincia. Poi Tiziana Russo preferisce non rispondere nemmeno alla presunta sua vicinanza con l'associazione Mizzica. Ma io come ho detto per altre sigle io parlo a tutti naturalmente, parlo alla gente libera che vota in modo consapevole e libero. Io penso che non ci sono, come dire, pacchetti di voti cristallizzati. Esiste un elettorato che liberamente, cioè mi piace credere che esista un elettorato che si convince in modo libero e consapevole ogni volta. Mi rivolgo soprattutto a quanti in questi anni decidono di non andare a votare. Li capisco, li ho capiti. Però questa non partecipazione rischia di essere e di diventare il maggiore alleato di chi della politica ne fa un ragionamento diverso dal mio, mettiamola così. Infine, così, Tiziana Russo commenta sui possibili concorrenti locali. Ho rispetto naturalmente per tutte le proposte in campo, però vorrei l'accento sui risultati che molti hanno portato in questi anni, perché molti sono in campo da diversi anni in modo diciamo attivo, ricoprendo cariche elettive alcuni, altre rincorrendole, però facendo parte a volte di organismi all'interno della regione. Io chiedo quali risultati abbiamo portato, quali risultati abbiamo portato per Sciacca e per il nostro territorio. È imbarazzante leggere Sanità pubblica fatto, è imbarazzante perché noi sappiamo, ed è sotto gli occhi di tutti, il degrado e l'arretramento anche del nostro ospedale a Sciacca e poi di tutto il territorio. A volte diventa una coerazione a ripetere, cioè mi devo candidare obbligatoriamente, mi devo candidare per forza. Penso che si può servire la collettività in molti modi, a volte candidandosi, altre volte partecipando in modo diverso alla vita pubblica. Sul piano personale che valore ha questa sua scelta? Ricordiamo che lei si candidò per la prima volta al Consiglio Comunale 24 anni fa ed è stata consigliera comunale in carica fino al 2009. Che valore ha? Questa è una domanda che naturalmente mi emoziona davvero, forse si vede in modo visibile. Per me ha il valore della scelta giusta, di sapere di essere dalla parte giusta. Io penso che la coerenza è quasi sempre un valore. Candidato alle prossime elezioni regionali, anche Michele Catanzaro, segretario del Partito Democratico, il quale a proposito delle alleanze diverse tra Sciacca e Palermo, dice se tornassi indietro direi ancora no ad un accordo a Sciacca tra PD ed Alternativa Popolare. Ancora Massimo D'Antoni ha intervistato Michele Catanzaro. Dottore Catanzaro, come mai ha deciso di accettare questa candidatura alle prossime elezioni regionali? L'ho deciso perché sono convinto che si può realmente dare una svolta. Credo che possiamo veramente dare il nostro contributo nel migliorare quelle che sono le situazioni di questa provincia che non vanno e soprattutto anche della regione. Lei recentemente non ha esitato a prendere le distanze dalla campagna propagandistica del PD nella parte in cui questa riferiva a chi è la situazione della sanità. addirittura era migliorata. Lei ritiene dunque che occorra una discontinuità ma al grado del governo precedente sia stato sostenuto dal vostro partito? Assolutamente. Io sono convinto di poter esprimere quello che possa essere il nostro pensiero. Altrimenti non si chiama Partito Democratico perché bisogna confrontarsi e magari poter avere anche delle opinioni discordanti perché solamente con il confronto e con la diversità di opinioni si può crescere. Quindi anche questa è la nostra missione per una battaglia del Partito Democratico per dare una fase nuova e di rinnovamento a questo partito. Per quanto riguarda le alleanze insomma viene fuori un po' una situazione apparentemente bizzarra che è quella che per esempio sul livello locale il PD e Alternativa Popolare sono non solo opposti ma lei per esempio da segretario del PD ha detto di no ad un'ipotesi di fare un accordo elettorale alle ultime amministrative. Invece a Palermo siete con la stessa maggioranza a Micari. Su questo tipo di dibattito lei che ormai frequenta la politica da qualche anno che tipo di considerazione si sente di fare? Questa è una domanda che ormai mi è stata posta più volte alla quale penso di avere esaurito tutte le risposte perché ogni volta ho sempre dato la stessa identità risposta. Una cosa è la battaglia che noi abbiamo condotto su Sciacca, un'altra cosa sono le alleanze sia su base nazionale che quelle regionali. Sono convinto che se tornassi indietro rifarei nuovamente la stessa scelta come segretario del PD ucranico. E un'ultima battuta a proposito dei suoi concorrenti delle altre liste, una battuta su Giuseppe Marinello con cui avete avuto più di uno scontro nel recente passato. Qual è la sua opinione? Marinello sarà un suo concorrente all'interno della lista di Alternativa Popolare? Innanzitutto un grande bocca al lupo per tutti i candidati, un grande rispetto per ognuno. Poi dopodiché Marinello sarà concorrente all'interno della sua lista. Sono convinto che la gente oggi possa realmente avere l'opportunità di poter scegliere candidati che ci sono all'interno delle liste. Una cosa però la voglio dire, non so se il senatore Marinello abbia fatto tantissime cose per Sciacca per essere rivotato. Io mi sto ricandidando per poter essere a servizio della mia città, del mio territorio e quindi chiedo alla città intera e ai cittadini di mettermi alla prova. Si acuisce sempre di più lo scontro all'interno del Movimento 5 Stelle di Sciacca. L'osservatorio privilegiato per così dire è la tribuna di Facebook dove commentando le candidature locali Nino Vitale, storico attivista e grillino non nasconde il proprio orientamento in vista alle prossime elezioni regionali, annunciando sebbene risposta ad una precisa richiesta di un altro utente che voterà per il Movimento 5 Stelle ma che non indicherà la preferenza per Matteo Mangiacavallo, deputato regionale uscente. Ne è venuto fuori un dibattito ampio e dinamico nel quale si è inserita anche la sorpresa di un altro militante rispetto al fatto che Mangiacavallo è un candidato saccenze. A dare manforte a Nino Vitale è stata Antonella Di Prima, candidata alle ultime europee non eletta solo per un soffio, che non ha esitato a schierarsi con Vitale difendendo la sua opinione, confermando indirettamente le proprie vedute diametralmente opposte da quelle di Mangiacavallo. Qualcuno però ha fatto notare che durante la campagna elettorale delle europee il parlamentare saccenze accompagnò la Di Prima negli incontri con i cittadini, ma l'ingegnere Di Prima ha replicato evidenziando che tutti i portavoce partecipano ai tour nello spirito del Movimento. Insomma, facendo una battuta si potrebbe dire che i militanti del Movimento 5 Stelle di Sciacca più che nemici sono fratelli. La tensione tra i due schieramenti interni al mondo grillino non è certamente storia di ieri, peraltro nei giorni scorsi durante la presentazione del disegno di legge per l'istituzione della storia dell'antimafia come materia scolastica, presentato dalla parlamentare Chiara Di Benedetto, gran parte dei pentastellati ha preferito non partecipare e se non fosse stato ripreso e trasmesso integralmente per come meritava dalla nostra emittente, quell'incontro sarebbe stato riservato a pochi intimi. In pochi però sanno che l'onorevole Di Benedetto è moglie di Mauro Giulivi, il grillino che non ha esitato a presentare ricorso contro quelle regionarie che hanno incoronato Giancarlo Cancelleri a candidato governatore, mettendo in imbarazzo l'intero movimento costretto a fare conti con una sentenza della magistratura che ha dato ragione al ricorrente. Va da sé a questo punto che dopo le prossime elezioni regionali, assai più probabilmente dopo le nazionali, nel Movimento 5 Stelle ci sarà la resa dei conti interna e forse saranno in molti ai quali sarà chiesto di togliere il disturbo. Diversità di vedute significa visione politica da una parte, ortodossia e intransigenza dall'altra e il Movimento si gioca il proprio futuro. Siamo alla cronaca, una multa da 532 euro e la revoca della patente per un automobilista che sfrecciava sulla statale 115 direzione Sciacca a 160 km orari sulla sua Ferrari. Il conducente non si era accorto di un posto di blocco della polizia stradale. Gli agenti coordinati dal vicequestore aggiunto Andrea Morreale sono riusciti ben presto a risadire all'autovettura e al suo conducente. Questa è soltanto una delle sanzioni elevate nell'ultimo fine settimana. I poliziotti della stradale hanno multato per eccesso di velocità lungo le principali strade statali dell'Agrigentino ben 40 automobilisti. A Carnevale di Sciacca del 2018 ci sarà la partecipazione delle scuole della città. Cinque i gruppi mascherati che saranno realizzati sul tema della storia e dei gioielli del Mediterraneo così come concordato nel corso della riunione che si è svolta ieri pomeriggio tra l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici. Speriamo che tutto ciò non si traduca in una minore partecipazione dei giovani ai gruppi mascherati che precedono i carri allegorici, commenta oggi l'ex assessore Salvatore Monte che torna a criticare la scelta della nuova amministrazione di abolire il secondo fine settimana di Carnevale. Sentiamo. Le scuole elementari e medie della città di Sciacca parteciperanno alla prossima edizione del Carnevale. Non più la singola iniziativa di qualche insegnante o dirigente come avvenuto negli ultimi anni ma un'adesione di tutte le scuole di base. Ci saranno dunque cinque gruppi mascherati ognuno dei quali sarà composto da 70-80 elementi sul tema della storia e della cultura della città e dei gioielli del Mediterraneo. E' quanto è stato concordato nel corso della riunione che gli assessori al turismo Filippo Bellanche e alla pubblica istruzione Annalisa Longe hanno avuto ieri pomeriggio con i dirigenti scolastici. Gruppi delle scuole che riceveranno dal comune un contributo di partecipazione all'incirca 1000 euro e che animeranno le prime due giornate di festa, quelle del giovedì e del venerdì, quando non è prevista la sfilata dei carri allegorici. Si esibiranno sul palco di Piazza Angelo Scandaliato. Gli altri giorni apriranno la sfilata precedendo dunque i carri allegorici. E' ancora da definire il programma della domenica di carnevale quella che registra da sempre la maggiore affluenza di pubblico. Ai carristi che l'assessore Bellanca incontrerà nuovamente questa sera verranno proposte due opzioni. Una sfilata solo dei carri allegorici nel centro storico con partenza alle 10 del mattino oppure la sfilata completa, ossia gruppo e carro, con inizio alle ore 13. I gruppi delle scuole, nell'uno o nell'altro caso, precederanno i carri. Il ritorno delle scuole al carnevale di Sciacca viene oggi commentato positivamente dall'ex assessore Salvatore Monte che ringrazia le singole realtà scolastiche che negli ultimi anni hanno partecipato con gruppi apprezzati, come nel caso del secondo circolo didattico Sant'Agostino con la maestra Patrizia Marciante. Il consigliere di Sciacca al centro auspica al contempo che la partecipazione delle scuole non sottragga danzatori ai diversi gruppi dei carri allegorici. Si rischerebbe, così come nel passato, di ammirare numerosissimi gruppi mascherati delle scuole e gruppi con pochi partecipanti relativi ai carri allegorici in concorso. È netta poi la critica dell'ex assessora alla decisione della nuova amministrazione di abolire il secondo fine settimana di festa. Sebbene l'assessore Bellanca abbia attribuito tale scelta all'esigenza di non far perdere diversi giorni di scuola agli alunni, dice, il secondo fine settimana rappresentava per la comunità associenza un'ulteriore occasione di sviluppo economico. È una scelta sicuramente politica e non artistica per il consigliere Monte. Un taglionetto con il passato, nella speranza giunge di poter dimostrare qualche lieve risparmio sui costi della festa, ma a discapito degli operatori commerciali e turistici. Attendiamo in aula il bilancio di previsione, conclude poi l'esponente di Sciacca al centro, che permetterà l'adozione del bando per la realizzazione dei carri allegorici. E l'ex assessora, a tal proposito, ricorda le polemiche politiche sul bando sotto riserva pubblicato a novembre e sul bilancio approvato invece a poche settimane dall'inizio della festa. L'assessore Bellanca ribadisce intanto le ragioni della scelta di abolire il secondo fine settimana di festa, intrapresa in un rapporto di collaborazione e condivisione delle idee e delle decisioni. Quella di far rientrare la festa in un unico fine settimana, torna a ribadire, scaturisce da esigenze scolastiche di ordine pubblico e per i diversi appuntamenti elettorali che da novembre fino al prossimo anno trasformeranno gli istituti in seggi. La volontà della nostra amministrazione, aggiunge Bellanca, è quella di fare bene e di organizzare la festa secondo la migliore tradizione del Carnevale di Sciacca, utilizzando le risorse, quelle dell'imposta di soggiorno, in modo ottimale e non esclusivo. 3.000 visitatori in meno di tre mesi al Castello Luna di Sciacca, gestito dal 19 luglio scorso dalla cooperativa Agora, numeri che dimostrano quanto sia importante mettere a rete e tenere aperti i siti e i beni monumentali della città di Sciacca. La nostra esperienza, dice Giuseppe Gulino, dovrebbe spingere l'amministrazione comunale a proseguire su questa strada per migliorare l'offerta turistica e al tempo stesso creare occasioni di lavoro per i giovani. Sentiamo. 3.000 persone hanno visitato in meno di tre mesi il Castello Luna, gestito dal 19 luglio scorso dalla cooperativa Agora di Sciacca. È la dimostrazione di quanto sia importante garantire la fruibilità dei siti e dei beni monumentali della città. Anche per noi è stato sbalorditivo questo risultato perché aspettavamo di raggiungerlo per la fine dell'anno, dato che abbiamo aperto il 19 luglio, quindi già a stazione inoltrata. È vero che un'organizzazione che stia dietro alla gestione di questi siti è sicuramente importante per portare dei frutti. Che tipo di utenza voi raggiungete? Come avete raggiunto questo risultato? Allora, questo risultato è frutto di tante cose. Intanto è frutto del Castello Incantato perché là il bacino noi maggiore di utenza abbiamo e quindi siamo riusciti a dirottare una percentuale di questi visitatori negli altri siti. Poi anche l'istituzione di Sciacca Musei, quindi ci ha permesso di pubblicizzare tutti questi musei in tutte le strutture alberghiere che ci sono a Sciacca, quindi già il turista quando arrivava in camera trovava la brochure del Castello Luna, del Museo Scaglione, del Museo del Sapone e quindi già era informato cosa c'è da vedere a Sciacca. Poi liberamente sceglieva se venire o non venire. Questo è il sistema da seguire per poter realmente sfruttare il turismo come risorse e fare in modo che questi turisti poi alla fine non rimangano nelle strutture ricettive ma abbiano realmente la possibilità di vedere Sciacca che offre tra l'altro tanto di più rispetto anche a questi tre siti che voi gestite. Sciacca possiede tantissimo, credo che sia la città che nella provincia di Agrigento possieda in maggior numero di beni monumentali che purtroppo sono per la maggior parte chiusi quindi avrebbe fatto secondo me un'operazione di apertura in tutti i sensi, non solo dei siti ma un'apertura che la sovraindendenza, l'amministrazione si organizzassero affinché questi siti possano essere date in gestione ad altre società cooperative, gruppi di giovani, Proloco che possano sfruttare questi siti e crearsi un'occupazione. Sicuramente il Comune non è un'agenzia che può dare posti di lavoro ma può creare i presupposti affinché i posti di lavoro si creino. Sul Castello Luna ci sono dei progetti per migliorare la fruibilità del sito. Per quanto riguarda il Castello Luna, noi già abbiamo iniziato un'interlocuzione con la sovraindendenza perché a noi piacerebbe creare delle passerelle che permettano sia l'accesso nella parte superiore della torre che al momento non è accessibile, anche i camminamenti che facevano i soldati quindi dare un ulteriore servizio al sito museale. Le altre due strutture? Le altre due strutture, diciamo, il Castello Incantato ha bisogno di manutenzione questo diciamo noi ci adopereremo per trovare dei fondi affinché venga restaurato. Abbiamo anche delle interlocuzioni con le scuole, con dei progetti scuola lavoro e stanno proprio, inizieremo ad esempio, una catalogazione di tutte le sculture che si trovano all'interno del Castello Incantato facendo operare, diciamo, i ragazzi delle scuole. Quindi è quel tipo di coinvolgimento del quale parlavamo all'inizio cioè preparare anche i giovani di Sciacca ad avere la cultura dell'accoglienza al turista? Non solo la cultura dell'accoglienza al turista ma anche conoscere il bene perché io mi sono reso conto, in alcuni incontri che ho fatto in alcuni istituti che molti ragazzi sconoscono la nostra storia. La cooperativa Gorada, lo scorso mese di luglio, gestisce anche la Casa Museo Scaglione dopo l'esperienza positiva maturata negli anni con il Castello Incantato di Filippo Bentivegna. Potrebbe esserci stato un nuovo sbarco fantasma nell'agrigentino a Punta Bianca il condizionale è d'obbligo perché sul bagnasciuga sono stati trovati vestiti e bottiglie di plastica che ipotizzavano uno sbarco ma dell'imbarcazione su cui avrebbero viaggiato i migranti non vi è traccia, episodio documentato ancora una volta dalle immagini dell'associazione Mare Amico. Sentiamo. Che dei migranti siano arrivati con l'ennesimo sbarco fantasma sulla costa di Punta Bianca tra Porta Empedocle e Licata sembra essere in dubbio, ma il condizionale è comunque d'obbligo. Lo dimostrerebbero tutti i resti spiaggia. Indumenti e bottiglie di plastica sono stati scovati e documentati dall'associazione Mare Amico. Nessuna traccia però dell'imbarcazione utilizzata dal nuovo gruppo di estracomunitari che dovrebbe essere giunto indisturbato. Un episodio quindi anomalo. Secondo l'associazione Mare Amico i migranti sparcati indisturbati potrebbero essere stati fra i 20 e i 30. Uno sbarco tranquillo, scrive la stessa associazione, per mancanza di testimoni, ma che proprio per questo resta comunque ipotetico. I migranti probabilmente si sarebbero cambiati i vestiti direttamente sul bagnasciuga, scrive documento all'associazione ambientalista. Mare Amico giustifica l'avvenimento con due diverse ipotesi. La prima supposizione, forse la più intendibile, è che lo scafista abbia lasciato in spiaggia i migranti e poi sia tornato in Tunisia per riutilizzare la barca. La seconda ipotesi è che l'imbarcazione sia stata abbandonata in loco e sia stata successivamente rubata da qualche pescatore del luogo e trenata al Palma o all'Icata, come in realtà spesso accade in queste zone. Di certo rimane il fatto che ormai le coste della provincia grigentina siano la nuova meta privilegiata dai migranti. Le notizie a tal riguardo sono all'ordine del giorno. È in corso un intervento di messa in sicurezza e ripristino del tratto di strada provinciale Menfi-Partano, un'arteria strategica che collega il centro abitato di Menfi con le contrade Agareni, Cinquante e Stoccatello. Le infiltrazioni di acqua meteoriche hanno provocato un profondo indebolimento della sottostruttura stradale al centro della carreggiata. L'amministrazione comunale di Menfi, al fine di evitare la chiusura al transito, anche temporanea come da ordinanza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento emessa questa mattina, si è impegnata con risorse comunali all'immediata messa in sicurezza e ripristino del tratto di carreggiata interessata dai cedimenti. Sul posto tecnici operai sia comunali sia del Libero Consorzio di Agrigento stanno seguendo i lavori di ripristino per consentire il deflusso veicolare. Nei cinque anni di amministrazione di Paola si urlava allo scandalo quando veniva fotografata un'auto parcheggiata all'interno della villa comunale. Cosa giusta, sottolinea oggi il consigliere Salvatore Monte. Infatti da assessore avevo spesso chiesto alla Polizia Municipale di risolvere il problema. Questa mattina c'era un'auto parcheggiata proprio all'interno della villa comunale di Sciacca. Il consigliere Monte ha presentato un'interrogazione all'amministrazione per capire quali provvedimenti ha assunto o intende assumere al riguardo. Sciopero nazionale domani dei lavoratori delle province organizzato da CGL, CISL e UIL. All'iniziativa hanno aderito i lavoratori del Libero Consorzio di Agrigento che garantiranno comunque i servizi pubblici essenziali previsti dalla legge e dal contratto di lavoro vale a dire viabilità, pronto intervento, polizia, giudiziaria e protezione civile. Il parroco di San Michele Don Pasqualino Barone è stato insignito del premio Il più buono dell'anno per la sua attività pastorale con la mensa della solidarietà di Santa Caterina. Il premio è stato consegnato all'Istituto Amato Vetrano di Sciacca nell'ambito della festa del cuoco che si è tenuta ieri pomeriggio in Contrada Marchese in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. Vediamo. Festa del cuoco ieri pomeriggio all'Istituto Amato Vetrano di Sciacca organizzata nell'ambito dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Presso l'auditorium Buonocore di Contrada Marchesa è stata prima celebrata la Santa Messa in onora del Santo Protettore dei Cuochi San Francesco Caracciolo. La celebrazione eucaristica è stata presieduta da Don Pasqualino Barone parroco della chiesa di San Michele a Sciacca che ha richiamato i valori testimoniati dal santo nella propria vita ossia la dedizione alla preghiera, allo studio, l'amore verso il prossimo l'intensa attività al servizio dei poveri e dei malati. Alla fine della Santa Messa Don Pasqualino Barone è stato insegnato dal dirigente scolastico Caterina Mulè del premio Il Più Buono dell'Anno per aver sostenuto e guidato in modo ammirevole la mensa della solidarietà e per aver saputo tendere la mano ai bisognosi e ai più deboli. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la FIC Federazione Italiana Cuochi è stata dedicata alle associazioni ONLUS e agli operatori del volontariato presenti anche le autorità cittadine e i professionisti del mondo della ristorazione. A conclusione della cerimonia, nel Salone delle Feste è stato allestito anche un buffet di pietanze gastronomiche preparate in istituto dagli allievi e dagli ospiti intervenuti. In mattinata erano stati proposti altri momenti musicali in collaborazione con l'Accademia Schanè e degustazioni alla presenza di docenti, studenti e ospiti. Conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario che fa capo a Ribera venerdì 13 ottobre alle ore 10 presso la Sala dei Sindaci del Comune Crispino per la presentazione del Fondo di Integrazione al Piano di Zona. Alla riunione sono stati invitati a partecipare gli enti, le associazioni e le cooperative di volontariato che operano nei comuni del distretto. Cultura che favola bimbi porta questo nome in iniziativa culturale promossa a Santo Stefano di Quisquina per i bimbi da 3 ai 6 anni. Si tratta di un progetto che l'amministrazione ha voluto promuovere per avvicinare i più piccoli ai libri. L'iniziativa si svolgerà nella biblioteca comunale. Ne scopriamo di più in questo servizio. È un progetto all'avanguardia sul piano culturale quello messo a punto al Comune di Santo Stefano di Quisquina dove è stata avviata la cosiddetta Biblioteca dei Piccoli attraverso il progetto dal titolo Che favola bimbi con l'intento di offrire ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni l'opportunità di scoprire attraverso la lettura il libro come oggetto misterioso che diverte e fa delle magie diverse da quelle dei giocattoli. L'iniziativa è del sindaco Francesco Cacciatore dell'assessore Giovanna Ferraro a giudizio dei quali anche per i piccoli fruttori della biblioteca leggere diventa un atto pedagogico di altissimo valore perché il libro non è solo nutrimento per la mente ma anche per l'anima allena l'emotività, sviluppa la fantasia stimola il linguaggio e consolida l'abitudine a leggere. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di favorire l'avviamento tempestivo dell'esperienza della lettura in una condivisione all'interno delle famiglie perché il piacere di leggere nasce se gli adulti consentono l'incontro precoce con il libro se leggono ai bambini offrendosi essi stessi come modello adeguato. Tra le varie attività proposte via l'educazione all'ascolto e la comunicazione con i coetani l'esplorazione e l'illustrazione dei libri scelte attraverso la rappresentazione grafica e mimica laboratori ludico-ricreativi mirati allo sviluppo della memoria della creatività e della fantasia. Un progetto molto interessante che un piccolo comune riesce ad organizzare quando invece dalle nostre parti per poter sostenere il simbolo delle politiche culturali ossia la biblioteca a bambini o adulti a cui si è destinata è stata addirittura necessaria una raccolta di fondi. La biblioteca di Sciacca però è sconosciuta e più e non possono certamente essere sufficienti per quanto nobili le sporadiche iniziative che si è tentato a organizzare negli anni scorsi. Il sindaco Valenti che è anche assessore alla cultura in campagna elettorale ha assunto degli impegni specifici in favore del riscatto della materia culturale. Possiamo cominciare a prendere esempio da Santo Stefano di Quisquina. Ancora cultura, spazio ai libri che ci consiglia la libreria Mondadori. Judith, la protagonista di Maestra ha assunto un altro nome e ha aperto una galleria d'arte. Un giorno un uomo le chiede di valutare una collezione favolosa ma di fronte al tesoro sente puzza di bruciato. Perché chiamare una piccola gallerista per stimare pezzi di tale valore. Mentre si interroga sulla faccenda scopre che qualcuno conosce i crimini del suo passato. Per mettere a tacere chissà Judith userà le sue armi migliori sesso e sangue freddo. Domina di Lisa Hilton Edito Longanesi Infestazione di mosca delle olive l'unità operativa di Sciacca dell'assessorato regionale all'agricoltura consiglia agli olivicoltori del comprensorio di non effettuare in questa fase alcun intervento nei confronti del parassita. Le precipitazioni negli ultimi giorni hanno determinato le condizioni che di norma favoriscono l'infestazione che tuttavia dai controlli effettuati risulta al di sotto della soglia di intervento. I tecnici della sezione operativa di Sciacca sono a disposizione di olivicoltori per informazioni o per effettuare controlli sulle piante. Elezioni regionali il prossimo 5 novembre gli iscritti all'albo degli scrutatori potranno presentare la propria disponibilità per le prossime elezioni dal 12 al 17 ottobre prossimi presentando le apposte la domanda all'ufficio elettorale del comune di residenza al modulo che sarà consegnato dallo stesso ufficio di Via Roma va legato un documento di riconoscimento. Era l'ultima notizia siamo in chiusura grazie per aver scelto le nostre notizie che tornano puntuali nelle prossime edizioni con tutti gli aggiornamenti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.